I brani sì? Mi permettete di dire i brani? Allora il primo, spero che sia il primo, Sattertime di Gershwin e poi altri due brani, uno di Arbietto e un altro di Winter, non dico altro. Che dire? Facciamoglielo questo applauso di incoraggiamento! Grazie! 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 stai 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 Grazie! Grazie!